Fino a 4 novembre, alla manica lunga della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, sarà possibile visitare la mostra Tenendo Innanzi Frutta, mostra pomologica delle antiche varietà locali di frutta e verdura al tempo di Luca Signorelli e organizzata dalla Fondazione Archeologia Arborea, che ha aderito alle iniziative dell'anno signorelliano con una mostra che illustra la frutta e la verdura al tempo del pittore. Da sempre la Fondazione ha visto la grande arte rinascimentale come fonte di ispirazione e documentazione. Il titolo di questa esposizione, infatti, si ispira a quanto consigliava Giorgio Vasara ai pittori, i suoi collaboratori, che dipingevano nel Cinquecento, anche in Alta Valle del Tevere, tenendo Innanzi Frutta per litrarla dal vero. Si può pensare dunque che la frutta raffigurata dagli artisti rinascimentali venisse direttamente dai orti o dai giardini del tempo. Allora, la Fondazione Archeologia Arborea in realtà fa un lavoro di recupero delle vecchie e antiche varietà locali di piante da frutto. Quindi questa occasione dell'anniversario di Luca Signorelli è stata per noi preziosa perché parliamo del 1500. Quindi nel 1500 c'erano decine e decine di varietà coltivate, tra mele, pere, susine, eccetera, che noi in realtà conserviamo. Molte di queste varietà che conserviamo sono proprio del periodo del Signorelli, documentate di quel periodo e quindi l'abbiamo messa in mostra. L'abbiamo messa in mostra perché in realtà in qualche modo sono, secondo noi di Archeologia Arborea, sono un tesoro da valorizzare, da mantenere e da far conoscere. Perché in realtà questo nostro territorio ha espresso queste straordinarie varietà e noi le vorremmo mantenere prima di tutto, ma far conoscere e ridiffondere. Perché poi è questo il senso di tutto il nostro lavoro e anche il senso della conservazione della biodiversità. In mostra anche un'esposizione fotografica, frutta d'arte, che mette in luce alcune opere rinascimentali di pittori umbri o che hanno dipinto in Umbria, dove sono rappresentate varietà di frutta che sono state salvate proprio da Archeologia Arborea. Sono esposte anche le opere create, espressamente per l'occasione, da fanette cardinali, piccole alzatine in maiolica e gressa realizzati a mano, pezzi unici per mostrare al meglio gli antichi e rari frutti, e di Simonetta Riccardini, con un dittico costituito da due standardi in carta cinese da calligrafia, in cui sono rappresentati i frutti di Archeologia Arborea. E grazie ai materiali e ai colori utilizzati viene sottolineato l'opera preziosa ed il lavoro che viene realizzato in questi anni da Archeologia Arborea.